Buongiorno ballerine, ballerini e amanti della danza e benvenuti in questo nuovo video. Oggi mi siedo qui con voi per dare un'occhiata alla tabella della versatilità che la maestra Celentano ha fatto completare agli allievi di amici, chiedendo loro di definirsi competenti o meno in vari stili di danza. C'era il classico, il neoclassico contemporaneo, modern contaminato, commerciale, latino e hip hop. Per capire se avete cognizione delle vostre capacità, se avete consapevolezza, non solo per quanto riguarda la versatilità, ma anche di come voi vi valutate come ballerini. Ho visto un'enorme confusione su che cosa fossero i vari stili e che cosa comportassero. Quindi oggi sicuramente andiamo a fare chiarezza e capiremo che cos'è il classico, cos'è il neoclassico contemporaneo, il moderno contaminato, eccetera eccetera. Sicuramente ci sono quattro di voi che secondo me hanno poca cognizione. E soprattutto questa griglia della versatilità ci è molto utile per capire la consapevolezza che hanno i vari allievi. Consapevolezza fondamentale perché? Perché innanzitutto dobbiamo sapere quali sono i progetti, le performance, le audizioni più adatte a noi. Questa consapevolezza ci aiuta a comprendere meglio i no che riceviamo alle audizioni, perché credetemi che nella vita dei ballerini di no ce ne sono tantissimi, se noi abbiamo consapevolezza di noi stessi riusciremo anche meglio ad accettarli e a rielaborarli. Ed è anche importantissimo essere consapevoli proprio per lavorare sui propri limiti, sui propri punti deboli. Oltre a tutto ciò scopriremo anche da questa tabella, da questa magica tabella, quanto loro conoscono la storia della danza. E qui ci starà da mettersi le mani nei capelli. Iniziamo con Megan. E cominciamo subito da Megan. Classico? No. E ci siamo. Neoclassico contemporaneo? No. E ci siamo. Moderno contaminato? Sì. Ok. Per me è no. Mettiamo una musica e mi fai il tuo moderno contaminato dove pensi di essere all'altezza. Qui mancano proprio le basi. Quindi il moderno contaminato che cos'è? Quindi per me ad oggi tu non sei pronta per fare un moderno contaminato. Generale? Certo. Quindi neanche di portare a termine la coreografia. Un sacco di volte assolutamente sì. Andiamo a capire questo così almeno facciamo un po' di chiarezza perché alcune cose proprio non si possono sentire. Allora, moderno contaminato. Contaminato è un aggettivo che descrive il moderno. Il moderno rimane moderno. Il moderno contaminato ai tempi di oggi ci sono, diciamo... Cosa vuoi dire, scusa, ai tempi di oggi? Che io sono antica e non capisco e non conosco? No, no, no. Quando nasce questo moderno? La danza moderna nasce dalla danza classica. La danza moderna nasce dall'esigenza di rompere alcuni schemi molto impostati della danza classica. E chi sono i padri e le madri di questa danza moderna sono, ad esempio, Marta Graham. Timon, Humphrey. Cunningham. Sono proprio i fondatori della danza moderna. La danza moderna è quella. Ci sono diverse correnti perché Marta Graham ha sviluppato un tipo di danza moderna diverso da quello che ha sviluppato Cunningham, differente da quello che ha sviluppato a sua volta Limon. Ma sempre di danza moderna si parla ed è sempre molto, molto legata alla danza classica. Questo è il moderno. Sai cosa vuol dire contaminato? Nel senso, quello che magari io mi sento più addosso. Ah certo, tu ti senti addosso, moderno, dove ci sono solo movimenti e non c'è tecnica. E questo è il problema. Contaminato significa che ci andiamo a posizionare un pizzico di discipline differenti, ok? Ma la coreografia è di moderno, che poi dopo ci mettiamo un passo hip hop, che poi mettiamo un rimando al latino. Va benissimo, ma è un pizzico. No, magari c'è una tecnica proprio and the done. Io l'ho fatta poco. Hai studiato Marta Graham? Hai studiato Graham, hai studiato Limon, hai studiato Cunningham? No, non ho fatto quello, però ho fatto quello. Quella è la vera tecnica moderna, che viene dalla tecnica classica. Non esiste un moderno in and the done o un moderno fatto ai giorni nostri, perché il moderno è una disciplina che è nata tempo fa. Non è nata oggi. Che poi oggi si sia evoluta e sia anche contaminata, va benissimo. Ma il moderno è il moderno. Non stiamo inventando niente di nuovo. È molto, molto grave non sapere cosa sia la danza moderna. È gravissimo. Non sto parlando solo di Megan, perché poi arriveranno anche altri allievi che hanno delle idee molto confuse, ok? La storia della danza è importantissima. La storia della danza in generale è della nascita degli stili della danza. Perché se andiamo a interpretare il moderno e non sappiamo neanche cosa stiamo facendo, c'è un problema grosso. Di moderno, contaminato, dove sono solo movimenti e non c'è tecnica, quello è una possibilità, assolutamente sì. Però nella mia testa, in moderno, moderno contaminato, moderno viola, lilla o arancione, chiamalo come vuoi. C'è sempre la tecnica. Beh. Ma è ovvio che c'è sempre la tecnica, perché altrimenti non si chiamerebbe danza moderna, altrimenti si chiamerebbe in un altro modo. Quello che lei fa sono una serie di passi che di solito si utilizzano per fare da connessione, ok? Ai passi più importanti, ai passi che danno un segno distintivo a quello stile. Come ad esempio il control release, come tutto il lavoro di caduta, ok? Tutto il lavoro degli equilibri, dei fuori asse, eccetera, eccetera. Lavoro che è stato sviscerato ed è stato studiato per anni e anni dai padri appunto della danza moderna, ok? Che poi ci siano coreografie in cui di tecnica ce ne sia poca, va benissimo, ok? Ma comunque sempre tecnica modern è. Se non c'è tecnica non so che tipo di danza possa essere. Non ci siamo. Allora, l'improvvisazione, cioè quello che sta chiedendo la maestra, è ovviamente di improvvisare in modo abbastanza rapido per far vedere se si ha la conoscenza di quello stile. È chiaro che l'improvvisazione è una cosa totalmente diversa e poi andremo a capire che cos'è effettivamente. Ma improvvisare in uno stile che si conosce, che si padroneggia, non è difficile. Perché se io ho le basi forti di quello stile lì, qualsiasi musica mi venga messa, riesco tranquillamente a improvvisare, ok? E non è questione di pensare al passo, mi viene naturale, ma perché so esattamente il codice di movimento previsto da quella tecnica. Se io non so che cos'è la danza moderna, non so che cos'è la danza moderna contaminata, sarà un po' difficile che io possa improvvisare. Comunque l'improvvisazione l'approfondiamo tra un attimo, per non fare troppa confusione. Latino, tu metti? Ho messo sì. Come sai bene perché hai fatto quello che ti ho chiesto, ma a livello tecnico non c'eri, quindi per me è un no. Ora, come detto più volte, io rispetto al latino, all'hip hop, non mi esprimo perché non sono delle discipline che io conosco in modo approfondito. E quindi non dico nulla, anche perché non vorrei dire cose inappropriate che non conosco. Sicuramente però posso dire che quello che fa lei durante questa performance, questa piccola improvvisazione di latino, è un po' muoversi nella musica senza grandissima padronanza tecnica. E se come ha detto lei, ha fatto otto anni di latino, la tecnica la si impara in otto anni. È un po' difficile che non si impari la tecnica in otto anni. Poi salta fuori che lei ha fatto il latin show e non il latino americano. Non entriamo in queste dinamiche perché io stessa non sono un'intenditrice, però anche in questa disciplina c'è qualcosa che non va. Passiamo a Gianmarco. C'è stato un fraintendimento, cioè da parte mia. Io non mi ritengo un ballerino modern, cioè perlomeno il modern contaminato, che intende lei? Ma ragazzi, ma il modern contaminato è uno. Uno soltanto è modern, con la tecnica del modern. E poi ci sono delle contaminazioni che possono variare, ma il moderno di base è uno. Non esiste che noi adattiamo lo stile rispetto a quello che noi sappiamo fare, ok? Cioè se io lo so fare, questo è il mio tipo di moderno, ma siccome quello non lo so fare, quello non è il mio tipo di moderno. Non ci siamo, ok? Non è che le cose si adattano a noi, siamo noi che dobbiamo adattarci ai vari stili. È un po' diversa la cosa. Quando si parla di spaziare nei movimenti, sì, però se ci deve essere un minimo di tecnica, no. Quindi ho capito male io e per me no. Il resto delle risposte erano in linea con le risposte della Celentano, le mie risposte sono in linea con quelle della Celentano, quindi vi vado solo ad indicare le specifiche dei vari stili, in modo tale che tutti capiamo bene di che cosa stiamo parlando e dove le cose stridono. Dove non dico nulla, perfettamente d'accordo, perfettamente in linea. Sorvoliamo. Andiamo da Maddalena. Dimmi. Classico o no? E ci siamo. Neoclassico o contemporaneo ho messo sì? Fermi tutti, aspetta, 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 fermi tutti. C'è stato un fraintendimento. Io ho studiato comunque contemporaneo e contemporaneo credo si possa intendere più, cioè, più stili di contemporaneo diversi. Maddalena considera il contemporaneo come disciplina che si è sviluppata dal moderno, ok? Classico, poi si è sviluppato il moderno perché necessità di rottura di schemi, poi si è sviluppato il contemporaneo con un'estremizzazione di alcuni concetti del moderno e altre pensieri, altre filosofie, eccetera. Contemporaneo vuol dire anche dei giorni nostri, eh? Neoclassico contemporaneo. Vuol dire neoclassico fatto ai giorni d'oggi. La maestra intende il neoclassico che deriva dal classico con influenze del jazz, il cui precursore, tra virgolette, il cui inventore è stato Balanchine. Il neoclassico contemporaneo è il neoclassico che è stato portato avanti, a volte anche estremizzato, da altri coreografi contemporanei a noi o di qualche decennio fa. Quindi, fondato da Balanchine, viene poi rielaborato, sempre mantenendo gli stessi concetti, quindi la base di danza classica forte, gli off-balance, l'utilizzo della musica in modo molto particolare, con dei passaggi particolarmente veloci e rapidi, e altre caratteristiche da, per esempio, Forsythe, Killian. Oggi, come oggi, proprio contemporaneo ai giorni nostri, c'è per esempio Nunez e altri coreografi, ok? Quindi, non è quello che intende Maddalena, non è il contemporaneo che si è sviluppato dal moderno, ma è il neoclassico, ok? Fondato da Balanchine, che si è evoluto, è stato portato agli estremi, è stato anche portato in correnti differenti dai vari coreografi nel tempo, quindi da Balanchine fino ad oggi. Il neoclassico contemporaneo è impossibile riuscire a farlo se non si ha una base classica fortissima, eccellente, perché porta tutto all'estremo, ok? I salti, per esempio, nella danza classica, le batterie, sono ad una determinata velocità, nel neoclassico vengono portati in una velocità ancora più elevata. I passaggi sono molto rapidi tra un passo e l'altro, gli instep famosi sono molto articolati, molto rapidi, particolari, l'utilizzo della musica è portato a un livello successivo. Come anche l'un de or, la flessibilità e tutti questi off balance, ok? Quindi, se non si ha il classico, è impossibile riuscire a fare il neoclassico contemporaneo. Non lo so, credo di avere una tecnica abbastanza buona e credo di potermela provare. Certo che fraintendersi tra ballerini sugli stili della danza ci vuole proprio tutta, eh? Insomma, passiamo a Mattia. È quello che ho pensato quando ho scritto quel sì e quel no. Cioè, io ho letto Grine della Versabilità allievi. Io ho sempre studiato latino nella mia vita, non ho mai avuto l'opportunità di studiare altro. Con questa affermazione ha detto tutto. L'unico stile in cui lui è competente è il latino americano, perché l'ha studiato da tutta la vita. Essere versatili non significa solo saper fare tanti stili diversi, ma significa saper fare tanti stili diversi tutti fatti bene. Preferisco un ballerino che fa meno stili ma fatti bene, che più stili ma fatti male. Quello non è la versatilità. Anche perché se tu dici di essere versatile, ok? Nel classico contemporaneo moderno, se arriva un coreografo e mi chiede di fare il contemporaneo, non è che posso dirgli, eh, allora, aspetta un attimo. Io il contemporaneo lo porto a casa, però non sono proprio bravo, non è che l'ho proprio studiato. C'è qualcosa che non va, ok? Perché sul palcoscenico si porta solo l'eccellenza. Se mi dovessero dare una coreografia, in questo caso di moderno contaminato, io penso di riuscire a portarla a casa, portarla a casa in maniera decente. Quindi non significa proprio portare a casa una coreografia, significa sapere eseguire qualsiasi cosa ci venga sottoposta in quello stile, alla perfezione. Decorosa. Però io non ho messo, sì, riesco ad improvvisare in quello stile. Magari se mi dà un compito, io l'accetto volentieri perché sono qua per questo. E anche lui ci parla dell'improvvisazione. Come detto prima, l'improvvisazione è una disciplina, tra virgolette, tutta a sé. Una disciplina che può essere fatta con tanti diversi stili di danza. Si riesce a farla solamente se si ha grande padronanza di quello stile, perché è una disciplina, tra virgolette, che ci mette in seria difficoltà, ok? Perché dobbiamo cercare di sperimentare con il nostro corpo inserendo elementi della tecnica a cui stiamo facendo riferimento. Ma ovviamente non è niente di scritto, non è niente di già preparato, per cui bisogna esplorare tutto l'universo del nostro corpo, dei passi tecnici, della musica, della nostra relazione con lo spazio e tante altre varianti. È tutto un mondo a sé, è tutto un mondo da scoprire. Ma quello che chiede lei in realtà in questo momento non è proprio un'improvvisazione, cioè non stanno facendo una gara o un esame di improvvisazione. Stanno solo cercando di mostrarle quello che sanno fare in quella determinata disciplina. Quindi lei non sta a guardare la creatività o quanto in quel momento tu riesca a esplorare, ok? Il tutto, il concetto effettivamente di improvvisazione, ma quanto tu riesca a fare dei passi richiesti in quello stile, ok? Quindi il problema vero qui non è il fatto che lei abbia chiesto di improvvisare, il problema vero qui è che non ci siano delle basi forti sotto che permettano a loro di dire ok, latinoamericano lo so fare, perfetto, tac, ok, danza classica la so fare, perfetto, vado. Ok, questo è il concetto. Mi impegno e glielo faccio. Magari le dimostro che la versatilità per me non è solo saper improvvisare. Infatti la versatilità non è saper improvvisare. Proprio il discorso che sta facendo lui lo sta portando su un altro piano e sta dicendo delle cose che non c'entrano niente perché qui non stiamo parlando di fare un compito, ok? Il compito hai tempo di studiarlo e in qualche modo magari lui, il modern, riesce a farlo ma non significa essere versatili nel modern, riuscire a fare un compito fatto così e così. E io in questo momento dico di nuovo perché non penso, secondo me la conosco, di riuscire... Ok, io non ho nessun problema. Ma ragazzi non è quello che dice l'accelentano o quello che vuole l'accelentano che dobbiamo raggiungere. È quello che dice il mondo della danza è quello che dicono le varie discipline che dobbiamo raggiungere a cui dobbiamo fare riferimento, è chiaro? Se un domani devo andare a fare un tour dove mi chiedono di ballare cinque stili che faccio io, che uno lo faccio bene e quattro li faccio male? Guardate, non c'è tutta questa scelta nel mondo della danza ecco perché sempre di più si parla di ballerini versatili e di ballerini eclettici. Ma se so che devo andare in una parte dove devo ballare cinque stili magari evito, faccio altro. Perché devono essere bravi ed eccelleri in tanti stili diversi. È quella la sfida al giorno d'oggi, ok? Ai nostri tempi, ai tempi della Fracci non era questa la sfida quindi le cose cambiano, certamente. Perché i ballerini hanno tutta sta scelta di trovare lavoro, dai Mattia. Ma non si può andare là fuori e pensare di andare a fare audizioni solo per il posto perfetto che ha i requisiti che vogliamo noi perché non esiste, è un mondo di squali e è già bello che riusciamo a trovare un contratto, ok? Dobbiamo eccellere in tutto per riuscire veramente a trovare un lavoro perché altrimenti è impossibile. Andiamo avanti perché devi imparare a ragionare in una maniera più corretta, più matura sei ancora piccolino, non lo so perché. Passiamo a Ramon. Cosa hai messo? Classico? No. Neoclassico? Sì. Modello contaminato? No. Invece non sì. Hai fatto anche un compito su questo. Ramon avendo una buonissima, fortissima, eccellente base classica come vi ho raccontato anche in altri video riuscirà sicuramente a fare il modern contaminato. L'unica cosa è che in questo momento risulta ancora molto rigido per cui deve lavorare molto per riuscire a sciogliersi, ok? E ad avvicinarsi di più a quelle che sono proprio le rotture della disciplina e della rigidità della danza classica però ci può riuscire assolutamente senza problemi. Ragazzi, anche nel negativo e nel positivo bisogna essere consapevoli. Sono contenta che quest'anno ci siano queste audizioni o tabelle della versatilità un po' differenti che ci permettono di parlare di tante cose importanti e parlando di altri argomenti vi volevo ricordare che ho aperto un nuovo canale YouTube che si intitola Lea Positive parlo di crescita personale finanza personale insomma, se siete curiosi vi invito a dare un'occhiata ai video anche lì noi ci vediamo nel prossimo video Ciao!